Al fine di fronteggiare l'emergenza Covid-19, il Comune di Teramo ha deciso di introdurre alcune agevolazioni alla Tari, la tassa dei rifiuti urbani, sia a favore delle utenze domestiche che per quelle non domestiche. Sin dall'inizio del mandato, una delle principali finalità perseguite e annunciate dall'attuale amministrazione comunale è stata quella di voler ridurre progressivamente l'importo di questa tassa. Il Sindaco Gianguido D'Alberto rimarca che si tratta di un risultato che è anche frutto della ristrutturazione della teramoambiente, con la riduzione dei costi fissi che gravavano sui cittadini a causa di una gestione politico-amministrativa totalmente inadeguata. A breve il percorso si completerà con l'entrata al regime della società in house, che tornerà a fare della Team non un'azienda a servizio della politica, ma una società a servizio del cittadino. Così, mentre in tutta Italia la taria aumenta, a Teramo diminuisce per il terzo anno consecutivo. Soddisfatta l'assessore al bilancio Stefania Di Padova, che sottolinea come la riduzione si basi sul principio della progressività sia per le famiglie che per le imprese, interessando nel primo caso le categorie maggiormente colpite, in virtù dell'ampliamento del dato Isee, mentre per le imprese si terrà conto del periodo di chiusura. Nei prossimi giorni, sul sito internet del Comune di Teramo, sarà pubblicato l'avviso con il modulo ad uso dei contribuenti delle utenze domestiche. Per quanto riguarda queste utenze, le agevolazioni interessano i cittadini che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, secondo alcuni parametri. Un importo Isee pari o inferiore a 5.000 euro porterà uno sgravio totale della bolletta Tari. Tra 5.000 e 8.000 lo sgravio sarà del 70%, tra gli 8.000 e i 10.000 euro lo sgravio sarà del 40%, tra i 10.000 e i 15.000 lo sgravio sarà del 25%. Per quanto riguarda invece le agevolazioni Tari a favore delle utenze non domestiche, queste sono inerenti alle attività interessate dai provvedimenti che hanno disposto chiusure obbligatorie o restrizioni all'esercizio. Esse verranno applicate direttamente dal gestore e non vi è pertanto necessità di presentare alcuna istanza.